Buongiorno, benvenuti a Omnibus, buongiorno e benvenuti ai nostri ospiti. Allora, intanto Piero Fassino del Partito Democratico, Guido Crosetto di Fratelli d'Italia. Buongiorno e bentornato al vice direttore dell'Espresso, Marco Damilano. Buongiorno. Alla professoressa Linda Laura Sabadini, statistica e anche editorialista della Stampa. Buongiorno. E poi vedremo perché abbiamo invitato Linda Laura Sabadini anche a darci una mano. In collegamento da Milano do il buongiorno e il benvenuto a Mario Giordano, direttore del TG4. È in libreria il suo libro Avvoltoi, l'Italia muore, loro si arricchiscono. E c'è in libreria anche il libro molto bello, intenso di Marco Damilano, Un atomo di verità, Aldo Moro e la fine della politica in Italia. Dunque, noi oggi cominciamo da chi sceglierà chi, cioè i presidenti delle Camere, dal 23 marzo, perché è la seduta, è quella e le votazioni cominceranno in quel giorno, ma non è detto, anzi sarà difficile che l'accordo arrivi, cioè che il risultato arrivi proprio venerdì. Ma insomma, chi sceglierà chi, nel senso chi sono, come è composto il nuovo Parlamento. Vediamolo subito in un assaggio, in un servizio di Giovanni Marinetti. Io sono di Forza Italia, ne ho eletto nel Collegio Uninominale di Brato. Come? Giorgio Silli. Che emozione prova entrare per la prima volta in questo palazzo? Beh, insomma, io faccio politica da vent'anni, ho amministrato la mia città, che è comunque una città da 200 mila abitanti, però il Parlamento è il sogno della vita per chi fa politica. Luisa Angrisani, Movimento 5 Stelle. Elezza a Sanno, Collegio Campania 3. Io sono attivista del Movimento dal 2012. Ma quando hai iniziato a fare attività, pensava di diventare un giorno senatrice? No. No? No, perché a me piaceva partecipare all'attività del territorio, per fare qualcosa per il territorio. Poi mi sono ritrovata alle parlamentari, per l'artenanza di genere, sono qui. Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia. Eletto dove? In Puglia, Collegio Proporzionale della Puglia. Cosa faccio? Il farmacista. E spero di continuarlo a fare, perché ritengo che mantenere una professione, anche quando si fa politica, sia fondamentale per essere liberi. Viene dalla militanza? Sì, assolutamente sì. Tutti deputati, neoputati di Fratelli d'Italia. Questa è la cifra distintiva di noi di Fratelli d'Italia. Io faccio politica da quando ero ragazzino, 15 anni. Mai avrei pensato che di lì a qualche anno potessi, sarei potuto diventare parlamentare. Sono Carmelo Viciani. Eletto in? In Sicilia, nel collegio plurinominale Marsala, Bagherini. Uno dei superstiti. Uno dei superstiti. Ho 40 anni e sono un avvocato. E un renziano intanto? No, io sono un segretario provinciale del Partito Democratico. Io credo che... Non di fede renziana. No, no, io credo di... Io ho sostenuto Matteo Renzi nella sua corsa a segretario nazionale. Andrea Del Mastro, dei Fratelli d'Italia. Eletto dove? Eletto nel collegio uninominale di Biella. Quindi anche per lei oggi è il primo giorno? È il primo giorno, confortato da un gruppo che mi sta supportando e da una comunità umana, quella mia di Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, che mi sta aiutando a raccapezzarmi nella camera. C'è la mappa del palazzo, quindi assicuramente, poi per noi che siamo appena stati nominati, sicuramente non abbiamo nulla. E poi ci sono i regolamenti, c'è la Costituzione... Da studiare e regolamenti. Assolutamente. C'è da studiare tutto, Costituzione del Senato, Costituzione della Repubblica e Regolamento del Senato. E poi il Trattato e l'Unione Europea. Io sono professore ordinario di geomorfologia all'Università di Siena, quindi sono un geologo. Lei era già nel movimento, già nella sforza legislatura? No, 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 io sono entrato ora, sono all'uninominale, quindi... Ha vinto il mio collegio? Io ho vinto il mio collegio, sì. Io sono candidato ministro alle infrastrutture e ai trasporti. Spero di poter dare un contributo in quel settore. Si sta intervistando un futuro ministro. Un futuro ministro. Lei invece è un decano ormai qui. Diciamo. Come vi sembrano questi nuovi senatori? Fantastico, fantastico. Rendeci tanta voglia di fare bene per il Paese. Voi siete in uscita, siete al secondo mandato. Loro sono al primo e quindi ne hanno ancora un altro. Perfetto. Non è che poi si creano due gruppi con interesse? No, nella maniera più assoluta, assolutamente no. Unitissimo. Anzi, loro appunto prenderanno il nostro posto con il secondo mandato per poi dopo fare quello che oggi stiamo facendo noi a loro. Quindi un po' di formazione iniziale. Ma bene, solo un occhio alle fatture, le ricevute. Tranquillo. Allora, i nuovi e invece sicuramente decani di esperienza sia Fassino che Crosetto, però prima di chiedergli che cosa ne pensano, dirci qualcosa ai primi contatti con i nuovi, mi devo chiedere scusa a Marco Damilano perché ho detto che era vice direttore dell'Espresso, ovviamente è direttore dell'Espresso anche da un po'. Insomma, è mattina ogni tanto, c'è qualcosa che sfugge, qualche ruolo. Grazie. Allora, Piero Fassino, c'è una composizione nuova, adesso naturalmente non hanno valore statistico, ci direbbe la professoressa alle nostre interviste, però comunque raccontano qualcosa e raccontano anche forse qualcosa di diverso anche rispetto ad altre prima volte, ad altri parlamenti in cui ci sono stati nuovi, mi riferisco tanti anni fa alla Lega o anche al debutto dei Cinque Stelle nel 2013. Secondo lei c'è qualcosa di… Ecco, si vedrà, naturalmente questo Parlamento vede l'ingresso di tantissimi parlamentari nuovi perché gli esiti elettorali hanno premiato sia Cinque Stelle che Centrodestra in modo forte e nelle candidature c'è stato anche, mi pare, un rinnovamento piuttosto ampio, peraltro anche nella quota dei parlamentari del PD ce ne sono molti nuovi, quindi è un Parlamento nuovo che deve misurarsi tra l'altro con una situazione politica particolarmente delicata. I nuovi del PD vengono dal territorio nella maggior parte nel senso di persone che hanno avuto esperienza politica o no? Vengono dal territorio, certamente ce ne sono alcuni, molti naturalmente hanno maturato un'esperienza politica, chi ha fatto l'amministratore locale, chi ha fatto il dirigente politico nel partito, chi ha esperienza di movimenti nella società civile e naturalmente quando si compongono le liste sempre si cerca di individuare candidati che portino un'esperienza o di competenza o di conoscenze o di relazioni o di rapporto col territorio. Nel Parlamento lo abbiamo fatto noi, credo lo abbiano fatto anche le altre forze politiche, quindi bisogna sempre poi tener conto di una cosa a cui poco si pensa, tutti pensano a vincere le elezioni ed è naturalmente ovvio, poi bisogna governare cinque anni un paese e quindi non è indifferente che classe dirigente si esprime... Intanto c'era un candidato ministro... No, che classe dirigente si esprime e che qualità esprime il Parlamento perché poi per cinque anni deve reggere le sorti del paese. Guido Crosetto, per Fratelli d'Italia, ce n'erano due di esponenti neofiti del Parlamento nelle nostre interviste, che tipo di scelte di persone avete? Come hanno detto loro, noi abbiamo scelto persone che da tempo fossero impegnate in politica, tutti con una professione, nel senso che come ha detto giustamente Gemmato, il farmacista pugliese, una professione civile è la garanzia di libertà del parlamentare. La prima necessità è quella di avere delle persone libere, significa che sappiano anche ristaccarsi dal partito se pensano che la cosa che si sta votando sia contraria agli interessi del paese o dei loro elettori, delle persone che gli hanno dato la fiducia. Ci ho detto io che adesso da cinque anni non sono in Parlamento, vedremo se si staranno i prossimi cinque, per adesso entrerò oggi e poi vedrò la situazione, perché non penso sia un luogo in cui stare ad ogni costo e qualunque siano le decisioni che ti vengano prese, l'ho già dimostrato una volta, figuriamoci adesso. Ci ho detto il Parlamento conta poco e quello è il dramma e sarebbe quella la sfida. Io non concordo con Piero perché in realtà queste nuove persone vanno a fare i portatori d'acqua in un luogo dove la maggioranza delle leggi sono fatte dalla burocrazia e non dai parlamentari, perché sono pochissimi quelli che superata l'enfasi del primo giorno, cosa che a me ha dato fastidio, arriveranno lunedì e se ne andranno il venerdì. Lui si ricorda di me perché mi vedeva lunedì mattina e andare via il sabato mattina. Mi ha sempre disgustato il fatto che tutti si fossero abituati, compresi quelli che dovevano aprire la scatoletta di tonno ad arrivare il sabato pomeriggio e ad andarsene giovedì, perché non fa il parlamentare così. Il parlamentare deve fare le leggi, per farle devi seguirle, devi studiare, devi relazionarti con gli uffici. La maggior parte di quelle persone andranno in commissione e leggeranno i pareri che sono preparati dagli uffici. Quindi diranno quello che è il parere non solo, non tanto del loro partito, che c'è su alcune leggi fondamentali, ma non sul 90% di quello che viene prodotto in Parlamento, non degli uffici legislativi dei partiti, ma da una burocrazia che relazionandosi con i ministeri è quella che garantisce che ci sia sempre più o meno lo stesso equilibrio ed è quella su cui punta adesso Di Maio per pensare di poter fare qualcosa a guida 5 Stelle. Non sono le tesi rivoluzionali dei 5 Stelle, ma è la burocrazia italiana con cui ha iniziato a relazionarsi prima di tutti gli altri, perché la cosa un po' surreale di quello che è avvenuto è che la persona che ha preso più a calci la vecchia burocrazia è stata Renzi, partendo dai consiglieri di Stato che non ha voluto coprire la legislativa a Palazzo Chigingiu e le persone che invece più con questi vecchi burocrati, che sono quelli che però hanno costruito l'attuale sistema, si relazionano di più, sono quelli dei 5 Stelle. Per cui viviamo un momento di cambiamento. Io ieri ho detto all'incontro con Torlinelli per i 5 Stelle per quanto riguarda Fratelli d'Italia, che non era importante solo sapere quali erano le loro proposte come posti da occupare o come persone da mettere in quei posti, ma l'idea che c'era. Giustamente vogliamo che questo Parlamento diventi un Parlamento che ha peso, negli ultimi anni il Parlamento ratificava le decisioni del governo e basta, e la funzione parlamentare è morta. Sta dicendo delle cose pesanti, dette nei primi giorni di scuola, mettiamola così un po' a mare, e nello stesso tempo però che ci danno anche l'idea di come Fratelli d'Italia, non mi sembra poi dopo naturalmente arriviamo alla questione, al tema di oggi, al tema politico, come si va costruendo un accordo, se c'è, però Fratelli d'Italia non mi sembra in una disposizione d'animo così favorevole ad un accordo politico con i Cinque Stelle. Non abbiamo alcun pregiudizio, ma voglio vedere le carte, quando le persone mi parlano per anni di trasparenza, la trasparenza non è usare il manuale Cencelli per atturbire le presidenze del vicepresidente e dire cosa vogliamo fare e cosa abbiamo in mente, quella è la trasparenza sulle cose, non sulle cariche. Marco? Beh no, è interessante quello che dice Crosetto, va aggiunto un dato politico però, il Parlamento è stato svilito negli ultimi anni perché negli ultimi anni era anche, sia per l'aspetto diciamo burocratico ministeriale di cui parlava Crosetto, sia anche per il dato politico di governi che hanno usato per governare l'arma del decreto della fiducia, decreto fiducia fino ad arrivare purtroppo a quella pagina nera della vita parlamentare che è stata la fiducia sulla legge elettorale, questo adesso indipendentemente dagli esiti credo che si possa considerare un errore anche perché giustificherà eventualmente una maggioranza e cambierà la legge elettorale attuale magari a colpi di fiducia perché ormai il precedente è stato creato ed è un precedente che pesa. Quindi noi da cronisti abbiamo visto nel corso degli anni questo Parlamento che diventava sempre di più pura ratifica delle decisioni delle maggioranze di governo anche per un'altra questione politica e qui se ne assume invece la responsabilità chi ha promosso nel 2006 il Porcellum e quindi il centrodestra dell'epoca, le liste bloccate, i parlamentari slegati dal territorio e quindi i parlamentari, il problema dell'andare via il venerdì, il giovedì pomeriggio è che quando i parlamentari sono legati al territorio il venerdì, il giovedì vanno sul territorio, andavano, andavano, insomma sapevano dove andare, avevano l'altra parte del lavoro parlamentare che non è stare soltanto nel palazzo a fare le leggi ma anche rappresentare i loro elettori, il loro territorio, le categorie, insomma parlare con la società. Questa seconda parte è sparita ma noi anche da cronisti cominciavamo la settimana chiedendo cosa dicono i vostri elettori di questa mossa, di questa manifestazione, di questa azione parlamentare? Da un certo momento in poi siamo diventati noi le fonti dei parlamentari che venivano da noi a chiederci ma che succede, ma che dicono i sondaggi? Cioè noi abbiamo visto questa progressiva perdita di ruolo del parlamentare sia sul piano della rappresentanza politica sia sul piano della loro azione di legislatori. Ora questo Parlamento, la cosa interessante di questo Parlamento è che essendo un Parlamento a maggioranza indefinita e con l'innesto comunque di parlamentari eletti nei collegi uninominali che quindi possono rivendicare in qualche modo la rappresentanza del territorio, è interessante vedere se questi due elementi mettono in moto almeno una dinamica diciamo virtuosa oppure diventano ulteriori elementi di paralisi e di crisi. Questo è un punto interrogativo che è giusto porre alla vigilia della prima seduta. E soprattutto appunto al debutto del frutto di un nuovo sistema sicuramente. Fassino vuole aggiungere una cosa poi volevo chiedere a Mario Giordano. La prima è che questo Parlamento è eletto con una legge elettorale che ripristina un rapporto col territorio e quindi il limite che adesso denunciava da Milano della legge Calderoli e cioè che aveva staccato completamente diciamo il parlamentare dal territorio viene superato. Quindi da questo punto di vista questo Parlamento appunto ha l'occasione diciamo di riaccreditarsi e di ricostruire un rapporto con gli elettori perché appunto è stato eletto con un meccanismo che sollecita a un rapporto col territorio. Seconda considerazione c'è una crisi della democrazia rappresentativa e dei suoi istituti non solo in Italia. Diciamo per molte generazioni è cambiata perfino la gerarchia del valore delle istituzioni. Per molte generazioni al centro del sistema politico c'era il Parlamento perché il Parlamento era il luogo della sovranità popolare e il luogo della rappresentanza dei cittadini e il Parlamento investiva il governo ma era il Parlamento al centro. Oggi per la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica l'istituzione più importante non è chi rappresenta ma è chi decide. È il governo e non il Parlamento ma questo non è un fenomeno solo italiano assolutamente. Quindi c'è un tema più di fondo. In Italia tutti lamentano una carenza della parte decidente però volevo chiedere a Mario Giordano che cosa ne pensa se condivide l'analisi di Crosetto anche sul Movimento 5 Stelle e sul rapporto con la burocrazia cioè su come questa modalità di funzionamento del Parlamento diciamo così avvantaggia e consolida il potere molto forte in Italia da sempre della burocrazia. Ma sicuramente un rapporto con la burocrazia è anche per certi versi indispensabile per poter cambiare le cose però secondo me la novità di questo Parlamento è che al di là del fatto che la legge elettorale su questo non sono d'accordo con Fassino ma non vorrei riaprire il dibattito non favorisce il rapporto col territorio è una pessima legge elettorale per molti aspetti e se ci troviamo in questa situazione è proprio perché è stata fatta una legge elettorale brutta sapendo che era brutta per fare in modo che non vincesse nessuno. Questo bisogna dirlo prima ma ripeto non voglio aprire l'annoso dibattito sulla legge elettorale ma è evidente che nonostante tutto questo i cittadini sono andati a votare e quindi con tutto che è la crisi della rappresentanza tutto quello che vogliamo però hanno dato un grande segnale di fiducia. La novità di questo Parlamento non è tanto nelle facce nuove che abbiamo visto nel bel servizio di Marinetti che facciamo tutte le volte all'inizio ogni legislatura ed è sempre simpatico e divertente c'è quello nuovo quello che si perde quello che perde la valigia e va benissimo. La novità di questo Parlamento è che è nata da una forte volontà di cambiamento che è stata espressa dagli elettori nonostante questa pessima legge elettorale gli elettori hanno dato un segnale chiaro e allora si tratta di vedere secondo me se questo segnale è chiaro di fiducia nelle istituzioni perché non è stato un voto di protesta è stato un voto di grande fiducia nella possibilità della politica di poter cambiare qualcosa di dare una risposta a una situazione difficile in cui si trova il Paese e se tutto questo sarà tradotto poi in fatti concreti in questo rapporto con la burocrazia può essere essenziale perché nessuno può pensare di fare le cose così con la bacchetta magica o la fatta turchina però bisogna utilizzare e cambiare la burocrazia per cercare di trasformare le cose e di fare le cose che il Paese si aspetta in tempi rapidi e non con i tempi della burocrazia che la burocrazia ci ha aspettato in questi anni e questa è secondo me la sfida che ci aspetta nei prossimi anni a cui questa classe politica è chiamata con una grandissima responsabilità. Sì sembra insomma la dimensione dell'intermediazione non il contrario in questo caso. Allora professoressa è una una sua come dire focus sulla composizione di questo Parlamento qualcosa scritto lei abbiamo visto sulle donne per esempio che in realtà è andata meglio di come sembrava all'inizio per le questioni di genere. Allora i dati i dati non sono quelli definitivi ma sono quelli elaborati da open police sulla stampa perché ancora cioè adesso sono state in parte le azioni appunto ci sono ancora le cose che sono sospese. Ieri è rientrata una donna di Forza Italia e è uscito un uomo di Fratelli d'Italia. Esatto, è quello che mi sembra di capire. Però diciamo che le tendenze sono abbastanza evidenti. La cosa interessante è che prosegue una tendenza che era già in atto l'altra volta e cioè già con la precedente legislatura c'era stato un processo di ringiovinimento da una parte e un aumento della percentuale di donne all'interno del Parlamento. Questa è carina la cosa che ha detto la deputata mi pare dei 5 Stelle quando ha detto io proprio non me l'aspettavo perché lavoravo sul territorio. L'alternanza di genere è come dire questo aspetto e l'alternanza di genere sicuramente è stata un'opportunità data a molte donne in vari raggruppamenti per poter emergere. Però che cosa è successo? Quindi abbiamo il record 35% circa per le donne, un ringiovanimento forte, trasversale diciamo ai partiti anche se emergono alcuni raggruppamenti molto più giovani di altri. Il Movimento 5 Stelle è in assoluto più giovane, la Camera ha un'età media che è inferiore ai 40 anni e subito dopo viene la Lega con le donne che hanno un'età media di 43, mentre invece PD, Forza Italia, anche Fratelli d'Italia l'età media è più alta e si arriva a 46-48 per le donne e circa 50 per gli uomini. Quindi diciamo già le configurazioni, le due forze che più hanno vinto sono anche le due forze più giovani, ma non necessariamente con più donne o perlomeno con più donne i 5 Stelle, perché gli unici che hanno superato la quota del 40% sono i 5 Stelle, mentre gli altri si attestano su livelli più bassi, la stessa Lega intorno al 30% alla Camera e la cosa che emerge è che il PD e anche la stessa Leu hanno avuto un risultato in termini di presenza femminile molto deludente rispetto soprattutto alla tradizione, perché tradizionalmente il PD è sempre stato il partito che ha dato molta rappresentanza, più rappresentanza degli altri, invece in questo caso su 6 raggruppamenti è al quarto posto. Ora la cosa interessante è che sono le donne il traino di questo ringiovanimento, cioè in tutti i raggruppamenti sono le donne che sono più giovani, quindi questa è una cosa che riguarda tutti, è assolutamente trasversale. E l'altra cosa molto interessante è come sono diversi i vari raggruppamenti in relazione all'esperienza politica intesa come incarichi avuti precedentemente sia di donne che di uomini e cioè quello che emerge è che in particolare per esempio, è vero che il 65% non ha avuto incarichi parlamentari prima, però è vero pure che i 5 Stelle tra il 65 e il 70% di donne non hanno avuto mai nessun incarico politico, neanche a livello locale. No, diciamo stiamo parlando di incarichi, poi magari hanno fatto attività politica sul territorio, no? Ecco, la Lega a differenza dei 5 Stelle invece solo il 10% non ha nessuna esperienza, le donne della Lega, le donne, la Lega non aveva questa presenza di donne. Le donne della Lega nel 70% dei casi vengono dalle amministrazioni locali, quindi o da comuni o da province o da regioni e questa è solo la Lega a questo livello perché per esempio invece PD e l'EU vengono da incarichi parlamentari nella stragrande maggioranza, stiamo al 70% circa, da incarichi parlamentari o di governo. Forza Italia si trova in una situazione diciamo intermedia, un 30% completamente nuovi, poi una parte che viene da incarichi locali e una parte che viene da incarichi nazionali. È molto interessante questi elementi, dobbiamo andare in pubblicità, in ritardo. Locali, anche voi, anche voi. Restate con noi. Di nuovo in onda? Allora, ieri Di Maio ha detto questo Parlamento per me è sacro, però l'ha detto quasi a bilanciare delle dichiarazioni che Davide Casaleggio invece ha fatto per il Washington Post, in un articolo del Washington Post. Non so se la regia può farlo vedere l'articolo che avevamo scaricato dal sito. Oltre all'articolo, insomma, e anche non so se abbiamo un cartello di una delle frasi che sono state dette, cioè da Casaleggio in questo articolo. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via di significato e ciò è possibile grazie alla rete. Ora non sono giorni felicissimi per la rete, soprattutto per Facebook. Però volevo chiedere a Piero Fassino che ne pensa di questo concetto. Che la democrazia rappresentativa conosca una fase di crisi, e l'ho detto prima, è un dato diciamo della realtà, perché le istituzioni democratiche che noi abbiamo costruito, diciamo, nella seconda parte del Novecento, sono state costruite quando non c'era il web, non c'era la globalizzazione, per parlare di due dimensioni che hanno cambiato il mondo. Non c'era l'Europa, anche per stare sul tema nostro. Non c'erano tante cose, quindi... Non veniva distribuito il trattato, come alla signora, nel kit. Quindi è evidente che tu hai bisogno di ripensare la democrazia. Che cos'è la democrazia in questo secolo? Nel tempo del web, nel tempo della globalizzazione, nel tempo dell'integrazione europea, la devi ridefinire, ridisegnare e riformulare. Tanto è vero che il tema delle riforme istituzionali non è un tema solo italiano, è un tema che ritroviamo nel dibattito politico di tanti paesi. Pochi mesi fa c'è stata un'elezione in Francia presidenziale in cui uno dei candidati, che poi non ha vinto, però ha assunto come suo parola d'ordine passare dalla quinta alla sesta repubblica, giusto? Cioè il tema di come tu ti dai forme adeguate alla società, di democrazia rappresentativa adeguate alla società di oggi, c'è. Dentro questa riflessione e questa esigenza c'è anche il rapporto con le tecnologie della comunicazione a partire dal web, perché non c'è dubbio che oggi noi viviamo in una società digitale, in una società in cui la pervasività, l'invasività, il ruolo che ha... Ma può essere sostitutiva? Ecco, io non credo che possa essere sostitutiva, in questo no, nel senso che la tecnologia è uno strumento fondamentale, ogni fase politica, ogni secolo ha avuto, diciamo, linguaggi e modalità e strumenti di linguaggio diversi, non credo che il web possa sostituire quello che è il rapporto fisico, l'attività fisica, la relazione tra le persone, la costruzione di... Guardando al Movimento 5 Stelle, lo chiedo a Mario Giordano per dove volevo intervenire, questo tipo di elogio e di sostituzione alla quale fa riferimento Davide Casaleggio è la chiave, si può dire che è la chiave del successo e come sta anche dentro quello che leggiamo su Facebook, ieri la Gcom, tra l'altro, sembra temere che possa essere accaduto anche in Italia, quindi solleva perlomeno il dubbio, insomma, e apre un'istruttoria. Ma io non credo che una sostituzione sia mai stata pensabile, tantomeno è pensabile proprio in queste ore, in cui le nuove tecnologie dimostrano tutto il loro lato più debole, più oscuro, quindi pensare di sostituire le forme democratiche con le forme tecnologiche è sempre stata, ripeto dal mio punto di vista, una follia e oggi è talmente assurdo sostenerlo che mi sembra quasi pleonastico dirlo, però la cosa che mi... è che la crisi delle istituzioni rappresentative, certo, figuriamoci, c'è stata l'Europa, c'è stata la globalizzazione, l'Europa, io con me, sfondate una porta aperta, è la cosa più antidemocratica che sia stata costruita, come è stata costruita questa Europa, c'è stata la globalizzazione, c'è stato l'avvento delle tecnologie, ma le istituzioni rappresentative hanno fallito, perché quelle istituzioni, come si diceva, fassino, costruite con tanto sacrificio, poi negli ultimi anni hanno perso completamente il senso di rappresentanza, cioè sono diventate delle istituzioni che non rappresentavano più i cittadini, ma rappresentavano molto spesso altri interessi, o almeno così sono state percepite dai cittadini, lontane, cioè il voto del 4 marzo è un voto dei cittadini che urla, per come lo vedo io, alle istituzioni, rappresentate i nostri interessi, smettetela di rappresentare interessi alti, che sono quelle dei grandi istituti finanziari, che sono quelle dell'Europa, che sono quelle delle banche, di privilegiare gli interessi di altri e fate quello che è il vostro dovere, di una buona politica, cioè di rappresentare gli interessi dei cittadini. Purtroppo il fallimento delle istituzioni rappresentative non è dovuta dal babau esterno, cattivo, dall'uomo nero, dalla fata turchina, è dovuta dal fallimento di quei politici che hanno fallito perché non hanno rappresentato i cittadini e questo è stato detto in modo chiaro con i cittadini, che per me si sono dimostrati ancora più responsabili, dando comunque fiducia a quelle istituzioni. C'è il discorso che fa Mario Giordano, non fa una grinza, è che il Parlamento dal 94 in poi sia travolto anno dopo anno da un disprezzo diffuso, diffuso in tutti, perché chiunque di noi si toglie la giacca e si mette quella cittadina. Il punto è capire se quello che dice Casaleggio è una... No, arrivo a quello. Voglio chiedere alla regia se può farlo vedere dall'iPad, dell'articolo... Anche al di là poi della responsabilità reale, no, perché poi alcune scelte sono state scelte e prese collettivamente, tutti d'accordo, io ne cito una perché mi alzai contro il fiscal compa SM, io mi alzai in dissenso al gruppo votando contro, ma tutto il Parlamento votava a favore. Per cui io adesso quando sento dire mi mancano 2-3 miliardi e so che ogni anno, al primo di gennaio, ne diamo 25, al Fondo Salva Stati che non ha salvato uno Stato ma ha salvato le banche, mi girano un po' le scatole, no, perché poi alla fine ti associano, dicono, non guardano, ah tu hai votato contro, no, non conta. Ci ho detto, però sta cambiando il discorso di Casaleggio, non va sottovalutato. Casaleggio dice una cosa, ci sono dei campi da coltivare, i nostri avversari continuano a coltivarli con l'aratro e i buoi, noi abbiamo meccanizzato. Cioè non è una cosa di poco conto perché il modo con cui comunico il concetto è diventato più importante del concetto stesso. Io l'altro giorno tornavo dalla Puglia in macchina ed ero sintonizzato su Radio Aricale e ho sentito l'intervento di Cuperlo, non so di un livello siderale rispetto alla politica. E allora mi immaginavo, no, questa scena, quasi questa vignetta, Cuperlo che per tutta la vita legge libri, studia, si confronta, no, verifica le idee che ha con i numeri e poi le comunica all'interno di un, all'interno, condensa tutto questo lavoro fatto di vent'anni, le comunica all'interno di 30 persone riunite in direzione PD e rimane lì e qualcuno, 10 lo ascoltano perché ascoltano Radio Radicale. Dall'altra parte uno si sveglia al mattino, si fa la barba, scende, accende Facebook, fa un rutto e milioni di persone dicono guarda questo rutta come me, ma guarda che bravo. Per cui viviamo in un tempo in cui non solo, adesso lo sto esagerando, non è solo importante quello che tu pensi, ma come lo comunichi, come arriva. È in questo lo strumento che ha messo a disposizione casaleggio dei Cinque Stelle, è uno strumento che mette loro in vantaggio in un certo tipo di comunicazione. Perché non è vero che le persone si incontrano per parlare? I miei nipoti, i miei figli, ma molto spesso anch'io, mi trovo a comunicare più con questa cosa qua e a sapere le notizie più da questa cosa qua che non leggendo i giornali perché è più immediato, perché in ogni momento lo accendo, in cui dovunque io sia. Non ho mica detto questo. No, certo, però per cui alla fine gli strumenti di comunicazione o di anacquamento della comunicazione o di manipolazione della comunicazione. Guido, scusa, non è che scopriamo oggi l'importanza della comunicazione. No, però oggi scopriamo un'altra cosa. Però scusami, scusami. Così da quando c'era il tamburo, adesso ci sono degli strumenti moderni, certo cambiano le tecnologie, cambiano, ma io sono un po' dito che dal tamburo al cantastro, ai nuovi mezzi... No, 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 un momento, scusami Mario, non stiamo parlando di questo, però c'è un passo ulteriore, cioè il passo è se questo, cioè se questo tipo di modalità di decisione che poi è tutta da vedere perché naturalmente la modalità di decisione in rete dei Cinque Stelle è stata anche criticata, oggetto di sospetti, di numeri non estesi, eccetera, e quello... No, 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 no. Quella non ce l'hanno più, io parlo solo di comunicazione, quella indecisione è morta qualche parte fa. Però no, però un momento sostituisce questo e poi c'è un altro aspetto, chiedo anche a Marco Damilano, che è venuto fuori perché questo è l'altro tema dell'intervista di Davide Casareggio a Washington Post, i voti hanno un costo preciso, può essere calcolato il costo di ogni voto, dice Davide Casareggio, e soprattutto questo si inserisce in un quadro in cui sono i social a fornire materiale alla politica per adattarsi e per, come dire, influenzare, non più soltanto fare delle proposte, ma seguire dei gusti, per esempio, intercettarli. Ma io è da qualche giorno, da qualche tempo che penso a quello che sta succedendo in questo inizio secolo, non solo in Italia, e mi sembra qualcosa di simile a quello che è successo nel Novecento, quando c'è stata l'irruzione, quando i grandi stati, compresa l'Italia nel 1913, hanno approvato il suffraggio universale, per l'Italia solo maschile, per la verità, quindi tutt'altro che universale. Allora lì cambia tutto, perché tu lì hai l'irruzione di nuovi, di masse di persone che non c'erano prima, e cambia anche il modo di comunicare. Nel 1913, ad esempio, quella campagna elettorale, i socialisti fanno i manifesti, i manifesti parlanti, perché si rivolgono a elettori analfabeti, era l'Italia in cui l'analfabetismo era maggioritario, e fino alle elezioni precedenti votavano quelli che avevano un certo senso e che avevano un certo tipo di istruzione, e allora c'era anche l'esigenza di comunicare in modo diverso. Allora non vorrei che tutto questo diventasse per il ceto politico tradizionale, e anche il ceto giornalistico tradizionale, perché mi ci metto dentro, mettiamoci dentro anche noi, e diventassimo come i liberali dell'inizio del Novecento, e a un certo punto vedono arrivare una massa di persone non invitate, non previste, e difendono un sistema che non c'è più. Questo non sta succedendo solo in Italia, perché qualche giorno fa fu Bini sul Corriere, c'era tutta un'analisi che faccia vedere come in tutti i paesi europei di fatto si sta a creare un secondo polo che viene definito populista, è una definizione omnicomprensiva, noi dovremmo andare poi a vedere caso per caso quali sono le proposte, quali sono i leader, quali sono i metodi di comunicazione, abbiamo messo tutto insieme in un'unica definizione, in un'unica definizione forse ormai un po' troppo larga, perché poi quando cominciano a girare milioni di voti e su scala continentale, molti milioni di voti, forse bisogna cercare di fare un'analisi più fine. Da questo punto di vista, se questo è vero, il rapporto tra le vecchie istituzioni e le istituzioni rappresentative è quello che si muove nella società, è il canale di mediazione che è anche la comunicazione, che è anche la rete come prima erano i partiti, con i loro circoli, con la loro propaganda, una propaganda adeguata all'elettorato che si voleva raggiungere e questo è un punto importante che forse ci porta anche a un livello un pochino più superiore della questione a chi vanno le camere, perché il Movimento 5 Stelle mi sembra da questo punto di vista diviso tra una prospettiva di futuro che prevede di fatto la fine delle istituzioni rappresentative, vedi anche tutto il tema... Quindi è una prospettiva apocalittica, come dire... Sì, è un futuro dove si vota con un click e senza le istituzioni rappresentative... Diciamo come il figlio Davide Casaleggio che, come dire, continua su un filone più... Sì, o dove i rappresentanti sono pura espressione, diciamo, della volontà generale. Non a caso la piattaforma si chiama Russo, abbiamo fatto molta ironia, ma Russo nella storia del pensiero è una visione molto precisa, è la volontà generale che non è la rappresentanza. Quindi da un lato... e vedi anche tutta la polemica sul divieto di vincolo di mandato nella Costituzione, cioè l'idea che i delegati sono pura espressione della volontà generale, cioè non hanno la loro autonomia, non è che vanno in un'aula e decidono. E dall'altra parte c'è invece un Movimento 5 Stelle, che è il primo partito italiano, il primo gruppo parlamentare che si ritrova in queste istituzioni e gioca la partita con le regole attuali. Scusami, prego, prego... Scusa, Mario, dico solo... Perché se non ci fosse il divieto di vincolo di mandato in questo Parlamento nessuno potrebbe fare nulla, cioè questo Parlamento potrà partire e fare un governo proprio perché la Costituzione permette al parlamentare di essere libero di giocarsi la partita, perché il vincolo di mandato degli elettori è stato non fate le alleanze con nessuno per il Movimento 5 Stelle, non vi alleate mai con la sinistra per il centrodestra, non vi alleate con gli altri per il PD, se ci fosse... non si farebbe nulla. Quindi la rappresentanza... tu dici, prego, Mario Giordano... Marco, siamo partiti criticando i 5 Stelle perché erano troppo vicini alla vecchia burocrazia, ma adesso li stiamo criticando perché... No, no, ma lo stiamo analizzando, credo che era una discussione molto... Stiamo vedendo i due, diciamo, le due polarità, no? Il Di Maio, il Di Maio che dice il palazzo è sacro e invece il Casaleggio che dice il palazzo è finito. Posso chiarire cosa penso di dire? Se un conto è dire il cambiamento, è certo che il cambiamento c'è, anche qua, lo dicevo prima, mi sembra di dire delle banalità, è ovvio che la comunicazione è cambiata, l'avvento dei nuovi strumenti cambia radicalmente. Come hanno cambiato altre cose? Perché io ho iniziato a metà anni Ottanta, nella seconda metà degli anni Ottanta a fare questo mestiere, mi ricordo una delle prime cose che mi fecero fare era andare in giro per la città a prendere nota di tutti i circoli dei partiti, le sedi dei partiti che chiudevano, chiuso, 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 perché era una modalità di comunicazione che, come diceva Marco adesso, stava cambiando. Quindi di cambiamenti di questo tipo ne abbiamo visti tanti, questo è un cambiamento di grande impatto sulla comunicazione che va capito, che va gestito, che va compreso, che va governato e quello che vediamo in queste ore con Facebook ci sta dimostrando come vada governato e come vada controllato, perché molto spesso questi poteri sono molto più forti degli Stati stessi e questo è il vero grande problema mondiale. Ma di qui a pensare che noi passiamo dallo spectro della piattaforma Rousseau per cui la democrazia viene abolita da un click, questo mi sembra che sia già fallito anche all'interno dello stesso movimento grillino come strumento di democrazia in testa. Quindi non mi fa paura questo, mi fa paura il governare tutti questi ragionamenti che stiamo facendo, che sono la punta dell'iceberg, hanno dignità per quello che c'è sotto, cioè una percezione di povertà, aumento di disuguaglianza, insicurezza diffusa a livello planetario in alcune zone in più, che porta la gente alla disperazione di dire mi affido a chiunque possa in qualche modo assicurarmi il cambiamento, che è il motivo, cioè queste elezioni, i risultati di queste elezioni non sono i risultati di 5 Stelle, Lega, Centrodestra, OPD e soltanto la fotografia di ciò di cui si accorgeva chiunque girasse per il paese, perché riguarda non solo più la classe dei disoccupati, riguarda quella che era una volta la classe media. Noi abbiamo una classe media che viene distrutta anno dopo anno e la cui ricchezza si sta tentando, ed è questo il discorso, di trasferire nella parte più ricca, cioè ci sono le grandi multinazionali che distruggono la parte media succhiando quella ricchezza che noi avevamo abituato a vedere diffusa in Italia da artigiani commercianti, e questo è il dramma che stiamo vivendo. Volevo chiarire una cosa, perché su questa riflessione del web, eccetera, in relazione anche alla partecipazione politica, non è così diffuso l'utilizzo del web da un punto di vista dell'informazione politica dei cittadini, cioè è una cosa su cui bisogna riflettere attentamente, perché il veicolo fondamentale continua a essere assolutamente la televisione e non il web. C'è un'indagine che viene condotta dall'Istat dal 93 tutti gli anni, questa indagine ci dà il quadro di quanti sono i cittadini che si informano di politica, con che frequenza lo fanno, se ne parlano, se si attivano facendo politica, ma quello che emerge chiaramente è che è vero che il web viene utilizzato, ma coinvolge al massimo un 30% di cittadini. Però dobbiamo metterci d'accordo su una cosa, poi dobbiamo andare in pubblicità e ne riparliamo dopo, ma che cosa vuol dire? Un conto è l'informazione politica, nel senso cosa fanno i partiti, un conto è la rete, è come la rete crea altro, cioè come racconta il mondo, la povertà, l'immigrazione, i migranti preparando... Su questo poi voglio intervenire, su questa cosa della disuguaglianza, però attenzione... Lo dico perché questo è il punto più sofisticato ed è il punto che viene utilizzato dai manipolatori, non sappiamo se questo è accaduto in Italia per il momento o no, però è questo che è accaduto e questo è il motivo per cui anche Facebook è sotto accusa, per i dati che può fornire sulle paure e come cavalcarli, questo è il tema, non l'informazione politica, naturalmente la televisione è normale, ma non i dibattiti, non ci vuole consolare dopo la pubblicità. Allora, la professoressa aveva interrotta per la pubblicità, Linda Laura Sabatini diceva comunque la televisione a dispetto di tutto è la televisione che comunque... È la televisione combinata con le reti informali, quindi amicali, parenti eccetera, cioè sembra strano, però il web non è così utilizzato e non così frequentemente utilizzato ai fini dell'informazione politica. Questo non vuol dire la televisione in termini di dibattiti politici, perché in realtà vedendo la serie storica nel corso degli anni c'è stato proprio un crollo nell'ascolto dei talk show da un punto di vista politico. Adesso poi ci sono invece delle... sono di più, c'è un'offerta che è molto cambiata anche come tipologia, però diciamo che l'ascolto di dibattito politico non è quello, cioè è più di un segmento di popolazione più autoselezionato, più distretto. La massa della popolazione usa la tv, usa la tv generalista, ma in particolare per il tramite dei canali tradizionali tipo telegiornale, cioè questa è la cosa, combinato con una crescita dell'informale, cioè con una crescita dei rapporti delle relazioni con amici, parenti eccetera. Questo direi poi va articolato secondo anche le fasce generazionali, perché sui giovani le cose sono un po' diverse. Anche sui giovani, cioè i giovani ovviamente utilizzano moltissimo il web, ma non a fini politici, non a fini di informazione politica, lo utilizzano per altre cose, però per loro è la normalità, ma non per la politica. Ottocentesimi, io però volevo chiedere se si può fare questo conto, quanto costano l'orgoglio di Casareggio, il titolo del pezzo di Fubini di oggi su Corriere della Sera, l'orgoglio di Casareggio sul costo dei voti M5S e poi anche l'enigma dei post, ma insomma il costo, si può fare otto centesimi di euro raccolti grazie a un sistema di micro donazioni e però poi quanto è costato ogni voto? Si può fare un calcolo. Attraverso il web si può fare appunto fundraising, cioè raccolta di risorse, ti ricordiamo il caso più clamoroso fu Obama con la prima campagna elettorale presidenziale. Non si può fare questo conto. Non credo che si possiamo mettere lì a fare appunto, sono due cose diverse, uno è il fundraising, l'altro è quanto può costare un voto, diciamo in modo banale fai una divisione tra i voti che hai preso e quanto hai speso per la campagna elettorale e questo ti dice procapita e quanto hai speso, ma lì il concetto è un altro secondo me, non è un concetto contabile, è secondo me abbastanza inquietante e cioè che, dico un po' brutalmente, tutto si può comprare, anche un voto e basta avere una tecnologia e una capacità di penetrazione e di comunicazione adeguata per cui io arrivo e anche con un costo minimo conquisto un voto e mi compro un voto, quindi questo è un po' più complicato, ma comunque voglio dire è un'opinione, un'attesi per carità, io voglio dire questo, è evidente che noi siamo in una società nella quale la digitalizzazione pervade ogni aspetto della nostra vita e quindi entrata nella politica sarebbe del tutto sciocco pensare di farne a meno o addirittura di prescinderne, bisogna sapere che anche il digitale come qualsiasi tecnologia può produrre risultati positivi e negativi a seconda di come lo usi, oggi siamo tutti inondati dalla notizia appunto che Facebook ha trasmesso, venduto o ceduto dati relativi a milioni e milioni di persone ad una società che poi li ha utilizzati in funzione dell'orientamento della campagna elettorale e dell'orientamento... con la quale aveva lavorato Steve Bannon, quindi da questo punto di vista io dico solo questo, le tecnologie non sono un fine, sono uno strumento e come tutti gli strumenti il problema è come chi li guida e come li guidi. E questo è il problema del come e del chi di oggi, Crosetto sui costi. Il ragionamento di Casaleccio, premesso che per lui è un piccolo spazio di pubblicità, cioè si sta facendo pubblicità alla sua azienda, ma all'area di quello è gravissimo, perché lui sostiene dicendo quello che ogni voto arrivato 5 stelle è arrivato tramite lui. Se lui dice che ogni voto è costato X, significa che ogni voto è arrivato grazie alla sua attività, quindi che le persone che li hanno votati, li hanno votati grazie all'attività fatta dalla Casaleccio dei Sottotitoli, che è gravissimo, io penso che le persone, siccome ne conosco alcuni, che li hanno votati, li hanno votati per diversi motivi, un cambio di quelli di cui parlavamo prima, altri eccetera, cambiamento, innovazione, ce ne sono mille diversi, non perché la Casaleccio ha investito quei soldi per farli votare primo, perché bisognerebbe ridimensionare Casaleccio, che adesso sta vivendo un momento di esaltazione e sta pensando ai fatturati della sua azienda. Ciò detto poi, se invece vogliamo andare al particolare, non è che i voti sono quello che tu hai fatto l'ultima settimana, sono quello che tu hai fatto negli ultimi 5 anni, per cui il lavoro fatto da loro, dalla Lega negli ultimi 5 anni, è stato quello che poi si è concretizzato nei voti. È come la barzelletta, sapete quella del meccanico, l'uomo che non riesce a aggiustare la macchina, alla fine va da un vecchietto, il vecchietto dà una martellata in un punto, gli aggiusta la macchina che nessun altro meccanico era riuscito a aggiustarli e gli dice, ah grazie, quanto fa? 500 euro. Gli dice, come 500 euro per una martellata? No, quella è gratis, è sapere dove darla che fa 500 euro. Ed è la stessa cosa, cioè il punto di arrivo, le elezioni non sono il punto di arrivo di una storia, no, no, di una storia di anni, non quella dell'ultima settimana fatta alla Casaleccio. Allora, a proposito, non so se si scambieranno martellate, o se invece si va verso oggi i giornali, mi sembra, nel borsino del Toto Presidenti e anche del Toto Governo si profila un accordo. Io vorrei ripartire dalle parole che ha detto ieri Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega e personaggio autorevolissimo, molto influente, vicinissimo a Salvini, a porta a porta. Allora, sentiamo Giorgetti e poi cerchiamo di capire che succederà, perché ormai è questione 48 ore prima del calcio di Nisi. Noi non vogliamo fare niente che tradisca in qualche modo gli impegni che ci siamo presi in campagna elettorale. Quindi, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, noi non ci muoviamo in modo disarmonico rispetto ai nostri alleati. Abbiamo però la consapevolezza, in qualche modo, di essere quelli che hanno la responsabilità, essendo arrivati per primi all'interno della coalizione, in qualche modo di delineare un po' la strategia, confrontandosi con quegli altri. L'ho detto e lo ribadisco. Noi avremmo i numeri per fare un governo con i 5 Stelle, non intendiamo farlo e credo che neppure i 5 Stelle vogliano farlo con noi. Però o si fa un governo che, ribadisco, dura la legislatura, oppure si torna a votare rapidissimamente, cosa di cui noi non abbiamo paura, ma temo che altri partiti, non faccio nomi, invece in qualche modo abbiano. Sicuramente un candidato sarà del centro-destra, noi ospichiamo della Lega, ma siccome, l'ho detto prima, abbiamo la responsabilità di essere quelli che, avendo preso più voti, traiano la coalizione. Noi non faremo i capricci se sarà un candidato non della Lega. Quindi, se questo potrà permettere di risolvere il rebus, noi saremo responsabili e daremo questa disponibilità. Al momento dobbiamo confrontarci, domani prima di tutto a casa nostra, nell'ambito dell'alleanza, e poi andare a confrontarci con gli altri. Allora, apertura, dopo invece sembrava che dovesse essere assolutamente della Lega il Presidente del Senato e non di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, è un'apertura reale, cambia qualcosa? Come si accompagna quella che ha fatto Berlusconi al dialogo con i Cinque Stelle, Guido Crosetto? Abbiamo deciso, diciamo prima, sulla Presidenza delle Camere di dialogare tra tutti i partiti, per cui gli incontri sono stati fatti con Cinque Stelle. Sì, però c'era un problema dentro la coalizione. Non è mai stata opposta con Forza così, per cui questa cosa di Giorgetti e Salvini all'interno della coalizione era già stata detta. Il tema è risolvere il problema di costituire Camera-Senato in modo che possano iniziare a lavorare, per cui c'è da scegliere due Presidenti. Adesso il tema è, ripeto, con che criterio sceglierli? Perché se tu scegli un Presidente della Camera o uno del Senato che il giorno dopo iniziano a fare il Presidente di partito, e quindi cercare di spaccare quelle istituzioni e usarle come campagna elettorale, diventa difficile accettarlo. Per cui o scegli delle presidenze istituzionali in cui concordi anche quello che deve essere fatto, oppure non è che aggiusti il clima, lo peggiori soltanto. E quindi io sono convinto che a oggi la soluzione più facile, più logica, sia quella di cambiare una legge elettorale velocemente e riandare a votare. Con la contrarietà, logicamente, del Presidente della Repubblica, che penso sia una soluzione a cui non penso piaccia molto, ma oggi vedendo cosa succede nessuno vuole il cerino. Perché capisci, guidare una coalizione in cui la forza te la dà il tuo nemico, che in ogni momento può toglierti da sotto i piedi l'asfalto. Diventa un rischio difficilmente accettabile. È interessante il ragionamento, ma come si adatta allo specifico, al nome, alla scelta del nome nell'indice istituzionale di garanzia? Se si fa una cosa per fare una legge elettorale, a quel punto la scelta, i partiti la delegano, con i loro voti la scelta a una persona terza che non sia di parte la Presidente della Repubblica, si prova la legge elettorale e si va al voto. Questo parliamo del Governo, però io parlavo delle Presidenze delle Camere. Ah, delle Presidenze, di fatto il tema di Giorgetti era su quello. Eh, su quello, ma alla fine non saranno insignificanti la storia delle persone che avevano proposto. Giorgia Meloni dice, Salvini molto più crudamente, diciamo, Salvini non può pensare di essere sia Premier sia avere il Presidente del Senato poi alla fine. Sì, ma infatti il tema è intanto vedere, quelli sono i nomi che vengono proposti dai partiti. Noi non abbiamo pregiudiziali né a un Presidente nominato dalla Lega, indicato dalla Lega, né da Forza Italia, così come noi abbiamo indicato la disponibilità di Giorgia alla Camera, casomai il centro-destra aspettasse la Camera. Per cui, ma non esistono richieste o possibilità. Esiste l'idea di cosa vogliono fare poi queste persone. Va beh, questo d'accordo. Eh no, guardi che è il tema. Faccio un esempio banale, guardi, adesso apro un altro tema. Un conto è, anche nei Cinque Stelle, non è che i Cinque Stelle sono una cosa monolitica. Cioè un conto è Di Maio, ultima versione, no, un conto è Fico, prima versione. Adesso apro un attimo. Parliamo di mondi totalmente diversi. Passino, come lo vede questo cambiamento? Intanto il Parlamento non è proprietà di una o più forze politiche. Non è soprattutto proprietà di una maggioranza. In un Parlamento una maggioranza poi fa valere i suoi voti e la sua forza nell'azione quotidiana di legiferazione, nell'azione del rapporto tra governo e Parlamento. Ma il funzionamento del Parlamento in quanto tale deve essere garantito secondo criteri di garanzia istituzionale. Quindi i presidenti devono corrispondere a questo profilo. Devo dire che vedo molti che dicono ci vogliono presidenti di garanzia, presidenti di garanzia, presidenti di garanzia. Poi quando si passa ai nomi vedo uomini e donne rispettabilissime ma che hanno una connotazione politica fortissima. Per cui essere presidente di garanzia non è così semplice. Tradurre questo principio nella scelta non è così semplice. Pensiamo alla Boldrini. No, comunque, parlo di adesso. Quindi da questo punto di vista io penso che bisogna cercare di fare una scelta che sia di persone riconosciute e autorevoli, che siano garanti dell'autonomia del Parlamento e dell'autonomia del Parlamento rispetto al governo e rispetto alla maggioranza parlamentare e credo che sia un tema che deve essere discusso tra tutte le forze politiche. Però questo sta avvenendo e questi nomi sono... Lo so, è una difficile composizione. Io capisco che c'è un'esigenza per fare il titolo dei giornali di sapere tutto subito. No, 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 ma noi soprattutto sapere se... No, però mettiamola così, vede, dopo queste parole che abbiamo sentito i Giorgetti o l'atteggiamento di Berlusconi, mettiamola così, lei vede un accordo, cioè i giornali oggi titolano bene ad annunciare la possibilità di un accordo più rapido, di un esito che non vada a finire una palude. Vedremo, non lo so, io sto come lei... Secondo Crosetto sì, secondo Fassino vedremo. No, vedremo, non lo so, i titoli giornali ci recono questo, vedremo se è così. Mario Giordano, volevo chiedere a te come vedi questo passaggio, cioè se Salvini in effetti ha interesse, se l'interesse dominante di Salvini è quello di tenere insieme la coalizione di centrodestra perché altrimenti sarebbe troppo debole, diciamo così, anche rispetto al Movimento 5 Stelle, se vedi che questa interlocuzione porterà qualcosa, sia sulle presidenze delle Camere, sia sul terreno del Governo. Sì, allora, per la prima domanda assolutamente sì, lo dicevo già nei giorni scorsi quando l'attesi prevalente sui giornali era invece quella di un accordo Salvini-Lega, secondo me, scusate, 5 Stelle-Lega, 5 Stelle-Lega, perché Salvini non ha nessun interesse in questo momento a strappare dentro la coalizione di centrodestra perché è vero che ha ottenuto un grande risultato alle elezioni, ma resta pur sempre un risultato del 17%, che diventa del 37% solo all'interno della coalizione e chi conosce bene il popolo del centrodestra sa che la forza del centrodestra è sempre stata quella nel presentarsi unito, nel momento in cui ci sono spaccature è difficile pensare di poter crescere così tanto da poter diventare i competitivi da solo. Quindi l'interesse di Salvini, non per bontà d'animo, ma per interesse personale, quello di non strappare in questo momento nel centrodestra, è cosa che sta facendo. Quindi io sono convinto che lui andrà all'accordo, sicuro si raggiungerà da quello che si capisce, si legge, si sente in queste ore, ad un accordo sui Presidenti della Camera, cedendo quindi la Presidenza del Senato ad un esponente di Forza Italia. Magari in cambio chiederà di avere la candidatura di Fedriga al posto di Tondo Infriuli. Cioè quello che prima sembrava avere il contrario. Esatto, perché Tondo ci sono molte contestazioni, molti problemi, insomma Infriuli sulla candidatura di Fedriga, quindi magari compenserà quello e lascerà via libera una candidatura di Forza Italia per il Senato, lasciando ovviamente la Camera ai 5 Stelle. Questo mi sembra lo schema in questo momento prevalente per le campi. Però da questo io non penso che possa nascere un organico accordo di programma di governo, perché anche qua non è interesse di nessuno, né di Di Maio né di Salvini, visto quello che dicevo prima, cioè la grande richiesta di cambiamento profondo che viene espressa dal Paese a queste due forze politiche che hanno vinto entrambe a loro modo le elezioni, cioè i 5 Stelle e la coalizione di centrodestra, ma che hanno programmi non conciliabili fra di loro. Quindi un governo organico di programma, come diceva prima Giuseppe, è difficile che nasca fra queste due forze e quindi io vedo molto più facile la strada poi verso le elezioni rapide, mi auguro con una legge elettorale modificata. Marco, ci inerpichiamo negli scenari, ti volevo chiedere Berlusconi, secondo te è giusto? Cioè Berlusconi in questo modo, aprendo ai 5 Stelle, quindi anche lui accettando la logica di non spaccare la coalizione, riesce a rientrare nel gioco? In generale in politica la posizione più importante è la posizione centrale, cioè chi conquista quella politica è la centralità. Quindi tanto più importante in una situazione come questa dove nessuno ha la maggioranza e è molto difficile comporre maggioranze omogenee sul piano programmatico per i motivi che abbiamo detto tutti e adesso da ultimo Mario Giordano. E quindi su questa partita delle presidenze delle Camere intanto si gioca chi è il leader, quello centrale, quello lo snodo. Allora in questi giorni il leader centrale sta diventando sempre di più Matteo Salvini, perché Matteo Salvini dialoga con Di Maio e fa capire di avere il piano B, il piano B è quello di cui parlava adesso Mario, cioè fare un accordo rapido per tornare a votare. Tornare a votare significa che soprattutto se ci fosse una legge elettorale in qualche modo maggioritaria significherebbe che la Lega andrebbe a prendersi i voti di Forza Italia nel centro-sud a questo punto in grande stile e il Movimento 5 Stelle tenterebbe di aumentare le spese di un PD che sarebbe colto mentre deve decidere il suo leader, deve ridefinire tutto il suo assetto. Da un lato. Questo è uno scenario. Questo è uno scenario. Dall'altro Salvini gioca anche la partita di essere il leader della coalizione del centro-destra e può portare Berlusconi a rientrare proprio perché ha anche l'altro piano. Può dire a Berlusconi se non mi fai trainare il centro-destra, io mollo il centro-destra e faccio un patto con Di Maio e andiamo a votare presto e tu non ne uscirai molto bene. Quindi la posizione di centralità è importante in questo momento. Berlusconi che come diceva sempre con una nota battuta, concavo e convesso, ecco questa è sicuramente la fase concava, poi Grosetto lo conosce molto bene Berlusconi. Vorrei sapere se è questo. Non potete mai aver detto quella frase che c'è sul giornale lì. Perché Luigi non mi chiama? Perché Luigi non mi chiama? Però è vero che ha detto anche a Giorgia Meloni che... Come si presenta bene in giacca e gravata. Ecco, ha cominciato improvvisamente a parlare bene di Di Maio. Come sta esteticamente? Sì, sì, ha detto a un ragazzo... No, 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 ha detto che è in gamba. Prima aveva detto perché l'estetica era il bel faccino, è passato da bel faccino a Napoli, a un riconoscimento. Vorrei sapere se... In gamba non l'ha mai detto. In gamba non l'ha mai detto. No, no, in gamba non l'ha ancora detto. A questo punto resta... Oggi sui giornali, sì. Oggi sui giornali, perlomeno. A questo punto sta bene in giacca e gravata. A questo punto resta un partito che è fermo, che è il Partito Democratico. E quindi questo è interessante capire. E di cui parleremo, cioè Fassino, dopo la pubblicità, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, dicevamo che cosa fa il PD. Oggi con qualche malizia alcuni quotidiani notavano che il PD perde e mai ci sono stati tanti candidati alla leadership. Zingaretti, Martina Del Rio, Calenda, veramente Del Rio, insomma, ma purfino Riccardo Maggi ha detto che vuole fare il segretario del PD. Fassino, com'è? No, vabbè, diciamo... Se prendiamo le cronache giornalistiche degli anni passati ne ritroviamo altrettante. No, no, però prendiamo il nome in campo. No, ne ritroviamo altrettante. Non è che mi... In questo momento il Partito Democratico ha fatto una scelta, ha nominato un segretario reggente che è Maurizio Martina. Maurizio Martina sta lavorando con uno sforzo di collegialità, io credo apprezzabile, per arrivare all'Assemblea, che si farà a metà aprile, per decidere, diciamo, il segretario che deve condurre il partito in mesi successivi. E stiamo lavorando soprattutto, diciamo, sull'agenda politica, quindi presidenza delle Camere con il confronto con le altre forze politiche, in cui Martina è stato molto chiaro, ha detto, noi riteniamo che ci debbano essere presidenti autorevoli e di garanzia, dopodiché noi non siamo qui a pietire con il cappello in mano niente. Ma Fico lo sarebbe, perché il nome, possiamo far vedere, Roberto Fico e Anna Maria Bernini sono le new entry del toto Presidenti, vedremo. Ma è autorevole Fico? Vedremo. O lo è più di fraccaro? Figuriamoci se io adesso mi metto a dare patenti. Vedremo, le valutazioni le faremo, diciamo, quando saranno avanzate delle proposte formali. E poi, naturalmente, abbiamo aperto una riflessione sulla sconfitta, perché il principale problema che il Partito Democratico ha in questo momento è misurarsi con le ragioni di questa sconfitta e come costruisce la sua strategia politica, sapendo che sul governo abbiamo detto una cosa molto chiara, fin dall'inizio, che vale anche in questo momento. Ci sono due forze che hanno vinto le elezioni, la coalizione di centrodestra e 5 Stelle. Qualsiasi Paese democratico c'è una regola democratica principale. Chi vince ha il diritto e anche il dovere di dire come vuole governare il Paese. E poi però tutti hanno aperto, poi dopo, tutti hanno aperto ai grillini, molti hanno aperto, pure Veltroni, parliamo, dialoghiamo. Bisogna che, intanto io vorrei far notare che da parte di 5 Stelle una proposta formale al PD non è mai arrivata. Noi stiamo discutendo, non rispondo a domande ipotetiche, non è mai arrivata. Meno male, sarebbe la cosa peggiore per il PD se è arrivato. È figo, non è una candidatura di figo. Anche io la manda, non scrive, non telefono. No, 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 io non sono manipolato. Non lo so, non lo chiedo, non sto chiedendo. Io dico solo. Noi, Fassino abbiamo capito che spera di no. Spera che non si spesa. Fate parlare a me un attimo. Voglio dire che sono tutti a dire cosa fa il PD, perché il PD non dice. Quando noi, non ci ha chiesto niente a nessuno in questo momento qui. Oh, tanto per essere chiari. E va bene così, nel senso che chi vince l'elezione ha il diritto e il dovere di tentare di fare il governo. Se poi non ce la fa, e bisogna che si consumi questa fase, allora si aprirà un altro scenario e a quel punto ognuno farà le sue valutazioni. C'è chi già dice che non c'è altro da fare che andare alle elezioni, vedremo. Ma intanto, la fase di oggi è una fase, segnalo tra l'altro che noi stiamo tutti discutendo, di che governo si fa degli equilibri dalle alleanze, non si è sediato ancora nel Parlamento, il Presidente della Repubblica non ha ancora fatto le consultazioni e non ha ancora conferito un incarico. Cioè, anche un minimo di rispetto del calendario istituzionale non sarebbe sbagliato. Le posso chiedere però se la rappresentazione del PD che è emersa, poi Marco mi dice se è riassumibile così, è una specie di correntone da una parte, dove con qualche sfumatura, però insomma tutti hanno un certo... E dall'altra parte i Renziani, una specie di corrente che però non è una corrente formalmente, i Renziani, che addirittura, Maria Teresa Mellin, un articolo del Corriere della Sera, la cito perché è un molto, come dire, precisa... No, è molto precisa e informata sulle cose di Renziani, mettiamola così, è un cronista particolarmente attenta, è lei stessa che rappresenta la corrente di Renziani divisa in boschiani e lottiani, boschi e lotti. Posso chiedere? I lotti di governo. Contano, contano, secondo me... Cioè è un po', è un po' così. Io non corro dietro, sì sì, però guardi, non corro dietro ai corridoi, ai gossip, ai si dice, agli amici, perché contano le scelte che si fanno quando si decide. E noi, nella direzione del partito, abbiamo eletto all'unanimità Martina, reggente, con un'area, diciamo l'area che fa riferimento a Emiliano, che si è distinta, in particolare su un punto politico, esprimendo in modo esplicito il fatto che bisogna fare un accordo con Cinque Stelle. E tutto il resto della direzione del partito, invece, si è ritrovata nella relazione di Martina e nella posizione che io ho qui ribadito. E cioè, spetta chi ha vinto l'elezione fare il governo, provino a farlo, se ce la fanno. governeranno, se non ce la fanno, si aprirà un altro scenario e a quel punto ognuno farà le sue valutazioni, ma non si può prescindere dal percorso. Però nemmeno dalle dichiarazioni che sono state fatte dai vari esponenti. Sì, no, ma io ve lo chiederei a Fassino, perché Fassino è diventato segretario di DS nel 2001, in un momento di sconfitta, anche se non così grave, sia in termini numerici, sia in termini politici, perché in termini numerici comunque c'era una presenza, in termini politici c'era una prospettiva, che era rinunificare il centrosinistra, eccetera, eccetera. No, però una delle politiche storiche del partito di centrosinistra, soprattutto quando sta all'opposizione, è cercare di separare gli avversari, fare una politica di attenzione, in quel caso era, per esempio, una politica di attenzione verso l'Udc di Follini e di Casini, altre volte è stato nei confronti di Fini, e giustamente si lavora sulle contraddizioni avversarie. Perché invece in questo caso sembra quasi che il PD lavori auspicando che due forze che sono molto contraddittorie tra di loro, cioè Lega e Cinque Stelle, che hanno addirittura due programmi opposti, cioè la flat tax e il reddito di cittadinanza, si mettono insieme. Io capisco la convenienza immediata a dire mettiamoli insieme, falliranno, e la gente dirà, oh, si stava meglio quando c'era il PD. No, 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 ma non è neanche questa ragione. Però io credo, per esempio, Veltroni esprimò una preoccupazione diversa, dice attenzione perché se nel Paese questi due si mettono insieme, anche perché noi, noi PD, stiamo fermi, sì, avremo qualche vantaggio nel breve, ma per il Paese sarebbe un altro. Io non penso, guardi, sono molto franco, io non penso che la nostra posizione possa essere determinata da un ragionamento su un vantaggio a breve, perché quando si affrontano nodi e passaggi come questo deve avere lo sguardo lungo. E io penso che noi non auspicchiamo affatto che si faccia un governo Cinque Stelle-Lega, perché, come dice lei, sarebbe una iattura per il Paese, secondo me, e tra l'altro mi risulta difficile capire come mettono insieme programmi molto diversi, molto, molto diversi, su alcune questioni, su altre magari trovano anche un'intesa, per esempio sull'Europa forse l'intesa la trovano, ma, diciamo, su molte altre cose no. Allora, noi da questo punto di vista, certo che non auspichiamo e evidenziamo questa contraddizione della difformità e del carattere molto distante dai programmi, proprio per rendere evidente... Ma lavorerete per poter segnalare... Sì, però io vorrei anche dire... Vorrei anche dire un'altra cosa, che a chi ci dice aprite i grillini, eccetera, io voglio dire una cosa, e poi io sono abituato a fare politica guardando alle cose, perché la politica poi deve governare un Paese. Allora, io mi sarei aspettato che in queste, chiedo scusa se faccio una proposta al sistema dei media e dei giornali, mi sarei aspettato che i giornali scrivessero un editoriale così fatto, con dieci domande. Se Di Maio diventa Presidente del Consiglio, il decreto dei vaccini rimane o viene ritirato? Se Di Maio diventa Presidente del Consiglio, le posizioni che ancora fino a quattro mesi fa la Cinque Stelle aveva sull'Europa, rimangono o no? Se Salvini diventa Presidente del Consiglio, si sfonda il 3% che il tetto... Però questo tema c'è, no, 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 non c'è, perché noi stiamo discutendo tutti, alleanze, in termini politologici, indipendentemente dalle scelte. Allora, io vorrei sapere intanto qual è il programma di Cinque Stelle, perché fino adesso il programma di Cinque Stelle non c'è. No, 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 Gordano, no, no, Giordano, mi faccio parlare, 5 Stelle ha messo molta acqua nel vino e ha cambiato tutte le sue posizioni negli ultimi 4 mesi per accreditarsi, io voglio sapere, sono le posizioni di questi 4 mesi o sono quelle di prima? Però mi scusi, abbiamo fatto una campagna elettorale in cui i partiti hanno presentato le loro cose, se sono attendibili o no, questo spetta il giudizio, spetta poi agli elettori a quello che succederà, non è rilevante però il tipo di maggioranza con cui uno lo fa, perché lei diceva giustamente, se c'è una maggioranza 5 Stelle e centrodestra è evidente che non si possono fare flat tax, reddito di cittadinanza, dico la prima banalità. Ma non è che noi stiamo discutendo di questioni politoloi perché siamo affascinati dalle formulette Magli, perché è evidente che essendo che in base a una legge elettorale, lo ripeto per l'unesima volta, sciagurata, folle, fatta apposta per trovarsi in questa soluzione, nessuno delle forze politiche ha la maggioranza per poter attuare il suo programma e quindi diventa rilevantissimo capire con chi lo farà, perché se il centrodestra dice il programma è di Salvini, ma con chi lo fa Salvini? Con gli scilipoti e i ratti di turno, con i 5 Stelle, che non ci sono poi, quelle formazioni sono, i cuscinettini sono spariti. Non è rilevante però, perché io non è, infatti è esattamente questo il punto. I cuscinettini sono chiaramente, basta leggere i programmi, 5 Stelle, PD, Leo, le forze che hanno possono ottenere più facilmente compatibilità sui programmi. È vero, 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 perché questa idea di un'economia che non può cambiare, e che non può crescere, e che non può crescere, e che non può crescere, è diverso da quella della taxa. Cioè una parte pensa che l'Italia possa reagire, rivivere abbassando le tasse di politica, l'altra si accontenta di sopravvivere. Però il punto è, i 5 Stelle, sembra che mezzo partito, PD e molta parte di area intellettuale che fa riferimento alla sinistra, e anche il fatto quotidiano, sono convinti che il Movimento 5 Stelle sia in un certo senso più di sinistra, e quindi più accettabile, questo poi è il soldoni. È così, è così fassino, cioè diciamo tra i due, la lega impossibile e il Movimento 5 Stelle sì. Che una parte dell'elettorato di 5 Stelle sia un elettorato che viene, diciamo dalla sinistra, questo mi pare evidente, tutti i flussi elettorali lo dimostrano, è certamente così. Che poi 5 Stelle sia capace di dare corso a una politica che effettivamente corrisponde a quelle aspettative, è tutto da dimostrare. E segnalo ancora una cosa, che fino ad oggi, non solo non c'è stata nessuna proposta al PD, ma c'è stata una cosa di più, cioè nelle dichiarazioni di stampa, però virgolettate, o nelle agenzie di Di Maio, l'impostazione è, noi abbiamo vinto, noi abbiamo un programma, noi lo presentiamo al Parlamento e gli altri ci sostengano, che è cosa diversa da convenire e concordare un programma. Perché il dogma era non facciamo alleanze con nessuno. Allora si chiede semplicemente al PD in questo caso di essere portatore d'acqua ad un programma che è loro. Beh, scomento. Lo schema sarà lo schema Torino, ma non riguarda lui, riguarda l'altra parte del PD di Torino, che ha preso sotto il cappello protettore la neosindaca, aspettando che faccia abbastanza stupidaggini per poi rimetterla fuori. Perché a Torino il PD di Chiamparino ha avvolto sotto un mantello quasi protettivo la sindaca, poi man mano che fa stupidaggini gli toglie il mantello in modo da lasciarla sola. Quest'idea il PD potrebbe averla anche a livello nazionale. E' fascino, però volevo chiudere con, perché adesso c'è una partita nella partita che è quella dei capigruppo del Partito Democratico, volevo chiederle questa partita come va a finire e ritorno alla domanda, ai rapporti di forze interni e come sono cambiati dopo il risultato elettorale, se lo sono. Io penso che in questa fase, come giustamente ha detto Martina, noi siamo interessati a una massima collegialità in tutte le scelte. Un partito che esce sconfitto dalle elezioni, l'ultima cosa che ha necessità di fare è quello di dividersi. Perché questo trasmetterebbe un messaggio ancora di maggiore debolezza e sconcerto alla nostra gente, all'elettorato e alla società italiana. Quindi noi lavoriamo per gestire questa fase nella massima collegialità e quindi la decisione sul capigruppo, io mi auguro, e lavoriamo per questo, sia una decisione che esprime questa collegialità. Senza una conta, senza arrivare a una conta. Ma quei nomi che sono stati fatti, ma devo esserci una continuità? Ma questo lo vedremo, discuteremo e ragioneremo. Questo per la composizione. E poi è uscita questa notizia che ci sarebbe una rivendicazione da parte della Larenziana per delle commissioni tipo Presidenza del Copa, Sir Perlotti, Commissione di Vigilanza per Maria Elena Boschi. Mi sembra che sia molto mettere il caro davanti ai buoi. Non abbiamo neanche ancora eletto i presidenti delle Camere, già discutere, mi sembra francamente un esercizio, come dire, prematuro. Ridicolo e surreale. Prematuro. Sì, non si sa ancora veramente chi fa la maggioranza e chi fa la minoranza. Apposto. E se sono commissioni che aspettano la minoranza, a meno che il PD non abbia già interiorizzato un ruolo. Linda Laura Sabatini ha un commento, non è il suo. Posso dire una cosa? Certo. Allora, se questo è il Parlamento più rosa che abbiamo avuto nella storia, perlomeno una cosa dobbiamo puntare a raggiungerla, che si mantenga 50 e 50 sui presidenti della Camera e del Senato. Quindi che ci sia una donna, che si vada decisamente con una donna e che poi anche nella scelta, perché poi attenzione, il passaggio successivo, sono i presidenti delle commissioni e delle varie commissioni, e non è che stavamo messi tanto bene nella scorsa legislatura, gli incarichi erano al 18% sulle donne, quindi non basta semplicemente la presenza delle donne in Parlamento, è fondamentale qualitativamente il ruolo che viene dato, la partita poi si deve giocare pure lì. E io mi auguro... Non è pensato neanche il requisito sulla base di cui viene dato il ruolo. Non possiamo pensare di coprirlo solo per genere. Tutte le donne brave vanno valorizzate, punto. Non è che vanno valorizzate in quanto donne, è in quanto brave, brave parlamentari. Ma noi sappiamo che ci sono tante brave che non sono mai valorizzate, quindi... Però io ho visto le elezioni di fatto non brave. Io ho visto le elezioni di fatto per chiudere a te e a Marco Damilano un pronostico su se sarà una cosa, diciamo così, cruenta, difficile il weekend delle elezioni dei presidenti, ad oggi naturalmente. No, credo che ci sarà forse già addirittura venerdì, sicuramente entro sabato, sull'accordo sui presidenti no, sarà molto più complicata la partita dopo. Marco, sei d'accordo? Ma lo sappiamo oggi al termine del vertice del centrodestra. È certo, la chiave. Se Salvini porta tutto il centrodestra su una soluzione insieme ai 5 Stelle, si fa subito. E poi vedremo che cosa farà. Il centrodestra si spacca già... Ma non mi sembra che sia quella l'aria. La soluzione patizzata si è sempre tra i 5 Stelle, ti dico avendo avuto l'incontro loro, si tiene sempre conto anche del PD, eh? E quindi, su questo però, Fastino ha detto, le carte sono coperte. Non si gioca come si è giocato la volta scorsa, uccidendo la minoranza senza dare ruoli negli uffici di precedenza, ma dando il peso a tutti che hanno. Va bene, ci fermiamo con questo pronostico e con due notizie invece dall'estero. Uno, una buona notizia, perché sono state liberate 110 studentesse rapite da Boko Haram in Nigeria, e lo riporta alla BBC. E la BBC però riporta anche, purtroppo, un attentato suicida a Kabul con un bilancio di vittime che è salito già a 26 morti. Ci dobbiamo fermare. Linea Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci vediamo domani. Grazie ai nostri ospiti, a voi che ci avete seguito, e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.